numero 6 zaino camouflage rosa capacità 20 litri circa lunghezza 31 centimetri larghezza 13 altezza 40 disponibile anche nel colore blu tessuto in poliestere ad alta densità chiusura lampo a due vie tasca con chiusura lampo spallacci morbida imbottitura regolabili con fibbia in plastica il costo di questo prodotto è di 33 euro circa per il prezzo aggiornato e l'eventuale acquisto vai al link in descrizione numero 5 zaino multicolore interamente stampato chiusura zip bidirezionale spallacci regolabili e imbottiti capacità 21 litri il costo di questo prodotto è di circa 68 euro per il prezzo aggiornato e l'acquisto vai direttamente al link in descrizione numero 4 zaino napapiri voyage classico 40 centimetri di altezza capacità 20 litri colore blu marino disponibile in altri bellissimi colori spallacci imbottiti per il massimo comfort ideale per la scuola o per piccoli viaggi il suo costo è di 35 euro circa per il prezzo aggiornato e l'acquisto guarda il link in descrizione numero 3 splendido zaino per ragazze napapiri voyage in camouflage rosa di tendenza e sempre alla moda spallacci imbottiti per il massimo comfort tasca frontale con zip ampia apertura centrale zaino ideale per la scuola o per uscite fuori porta il suo costo è di circa 69 euro guarda il prezzo aggiornato e acquista direttamente dal link in descrizione numero 2 bellissimo zaino napapiri v o y a g e printed 40 centimetri di altezza e circa 21 di capacità ideale per la scuola o piccoli viaggi disponibile anche in blu e marrone stampa su tutta la lunghezza chiusura lampo bidirezionale tasca con chiusura lampo comodi spallacci il costo di questo prodotto è di circa 69 euro per il prezzo aggiornato e l'acquisto vai direttamente al link in descrizione numero 1 napapiri happy day zaino casual capacità 20 litri colore blu marine disponibile in altri bellissimi colori chiusura lampo a due vie tasca e scomparto interno con cerniera spallacci imbottiti e regolabili il costo di questo prodotto è di circa 40 euro per il prezzo aggiornato vai direttamente al link in descrizione per il prezzo aggiornato vai direttamente al link in descrizione Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!